Questa è una zona molto importante di collegamento, è un bene artistico che va valorizzato, tra l'altro c'è questo collegamento, si dice, con Leonardo, con la Gioconda, sono 500 anni, bisogna dare un segnale. È partita proprio da qui, da Ponte Buriano, il ponte romanico del 1200, la tappa retina del ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli. La struttura è interessata da un intervento di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, dallo scorso dicembre, dopo la chiusura per lavori inderogabili, le auto sono tornate a circolare su Ponte Buriano, che rappresenta un fondamentale collegamento tra Arezzo e il Valdarno, resta ancora invece la limitazione ai mezzi pesanti costretti a percorsi alternativi. Penso che debba essere riaperto a tutta la viabilità e che venga fatto anche velocemente. Convocheremo un tavolo lunedì a Roma, interesseremo tutte le parti interessate, non è solo mio ministro interessato, chiameremo anche ANAS e cercheremo, come stiamo facendo un po' in tutta Italia, di scrivere delle convenzioni in cui lo Stato interviene a supporto soprattutto delle province che sono ancora esistenti ma sono depauperate dal punto di vista economico per surrogarsi e chiudere dei lavori che sono necessari. Il ministro si è poi spostato al viadotto Puleto lungo la E45 sotto sequestro dallo scorso 16 gennaio. Come è meglio impiegare i tanti miliardi che abbiamo? Facendo un buco in una montagna o facendo mille, duemila piccoli interventi di manutenzione sull'esistente? Se fosse una coperta lunga in cui si potesse coprire tutti i progetti sarebbe tutto più facile. Siccome non abbiamo una coperta così lunga, siccome abbiamo l'esperienza drammatica del ponte di Genova, abbiamo ponti chiusi dalla magistratura, ci sono strade provinciali interrotte, io penso che dobbiamo dare una mano ai cittadini a potersi spostare con normalità agli imprenditori di fare impresa. Il ministro delle infrastrutture infine ha risposto alle dichiarazioni dell'ex premier Matteo Renzi che ha annunciato di voler quererare Toninelli per le frasi su interessi e giglio magico. Ci sono 150 milioni di soldi destinati alla Toscana che sono stati destinati poche ore prima dell'approvazione di una legge di Renzi, di Del Rio, che definiva un piano nazionale degli aeroporti. Poche ore prima che fanno un contratto di programma che andava al contrario del piano nazionale. Evidentemente c'è un sistema di gestione dei soldi che non andava bene. Se mi vuole portare in tribunale mi fa una cortesia perché dovrà dire come mai tra il giorno e la notte hanno approvato un provvedimento che andava in contrasto con un altro provvedimento fatto da loro stessi.